A subire il colpo più duro della pandemia senza dubbio è stato il manifatturiero, flessione anche per il terziario e poi effetti negativi su consumi e lavoro. Queste alcune delle previsioni sull'andamento dell'economia della provincia di Arezzo sulla base dei dati Prometea elaborati dalla Camera di Commercio di Arezzo Siena. Dunque il valore aggiunto a retino 2020 si attesterebbe a fine anno a circa 8,3 miliardi di euro con una flessione sul precedente anno dell'8,8% rispetto alle stime formulate ad ottobre dello scorso anno che ipotizzavano una flessione del valore aggiunto del meno 10,2% spiega il vicepresidente Anna Lapini. Le stime per il 2020 sono migliorate mentre il protrarsi delle misure emergenziali ha portato ad una riduzione dal recupero previsto nel 2021 5,4% contro il 6,9%. Il settore sul quale le conseguenze dell'emergenza hanno lasciato i segni più evidenti è quello del manifatturiero che evidenzia una flessione del 9,2%. Il terziario invece a fine anno dovrebbe accusare una flessione media del 6,9%. Il valore aggiunto dell'agricoltura invece aggiunge poi Marco Randellini segretario generale nel 2020 dovrebbe avere una crescita record del 10%, ovviamente a conseguenza del cambiamento delle scelte di consumo registrate nel periodo del lockdown. Il settore delle costruzioni seppur interessato da una serie di incentivi fa segnare nel 2020 una flessione del meno 8,4%, un dato però che va analizzato assieme a quello del 2021 che prevede per il settore una crescita del più 12,3%. Nel comparto moda hanno poi chiuso in positivo sia abbigliamento che pelletteria mentre hanno accusato una battuta d'arresto le calzature. Sul fronte dell'occupazione Termina Randellini le chiusure forzate hanno lasciato un segno tangibile. Se infatti sul fronte degli occupati anche grazie al blocco dei licenziamenti si prevede per il 2020 una flessione abbastanza contenuta sul fronte delle unità di lavoro la contrazione è ben più elevata e segna il meno 8,9%. Si prevede infine che nel 2020 il reddito disponibile delle famiglie retine che nel corso dell'ultimo decennio era cresciuto ormai quasi ininterrottamente abbia subito una contrazione del 3,2%. Ben più ampia appare poi la flessione della spesa per consumi finali delle famiglie meno 11,4%. Nel 2021 si dovrebbe comunque delineare un parziale recupero dei consumi che proseguirebbe con più vigore anche nel 2022.